Per la cura e l'igiene della tua casa scegli Carola Detersivi, da Carola Detersivi trovi massima cortesia e personale qualificato, offerte giornaliere, ci trovi in via Monfenera 169 Palermo, pressi ospedale civico, vieni a trovarci Carola Detersivi, via Monfenera 169 Palermo, Carola Detersivi effetta un celere servizio a domicilio chiamandolo 091 50 72 566 Stop, dai una pausa alla tua giornata, vieni a gustare un ottimo caffè al Bar Giolli di Rigio Vita, ci trovi in via Pecori Giraldi 64 a Palermo, telefono 091 76 55 820 Bar Giolli è anche centro scommesso, dove giocare e tentare la fortuna, trovi anche una vasta sala con slot machine di ultima generazione, ricorda Bar Giolli di Rigio Vita, via Pecori Giraldi 64 a Palermo Il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Soccorso stradale 24 ore su 24, massima professionalità e cortesia, ricorda Fair Metal di Paolo Ferrara e figli, info Paolo 320 18 41 435, Andrea 380 12 72 554, Fair Metal di Paolo Ferrara e figli, Parcheggio Sofia, camper auto, moto e parco. E l'amor me chiama, la musica suena, la noce dei cristalli, bellezza e fella. E l'amor me chiama, la musica suena, la noce dei cristalli. Le cariche telefoniche, gratta e vinci, lotto e super enalotto, tris. A presto, troverete pure la bietteria, stadio e cento scommesse. Veniteci a trovare, tabaccheria dei mille. Per i tuoi momenti speciali, sogni e desideri di Serena Abate, ci trovi a Palermo in corso dei mille e 1168. Telefono 328 27 68 834 389 11 93 425 Serena Abate, sogni e desideri, vasto assortimento di bomboniere, articoli da regalo, decorazioni per feste, palloncini artistici per tutte le occasioni, tutto per la nascita e tanto altro. Escusivista a Valle d'Oro, via Veneto, stile contemporaneo. Sogni e desideri di Serena Abate, corso dei mille e 1168 Palermo. La scelta giusta. Alex e David, in collaborazione con Liana Schirmo e Clara Marscià, esclusivista a De Marchi, Chloe e Antonio Notaro. Capi da cerimonia su misura, completi di accessori per realizzare i vostri sogni. Oh! I feel so unsure As I take your hand and lead you to the dance floor As the music dies, something in your eyes Alex e David, sede atelier, si trova in via Sant'Agostino 24 Palermo, per informazioni 091 33 12 99 Per ogni tua ricorrenza floreale, rivolgiti a Piante e Fiori di Umberto di Cristina. Ci trovi a Palermo in via Castellana 2, telefono 329 88 66 911. Piante e Fiori di Umberto di Cristina, addobbi floriari per tutte le ricorrenze. Per i futuri sposi, offerta matrimoni a soli 500 euro, con auto da scegliere soli euro 700. Piante e Fiori di Umberto di Cristina, via Castellana 2 Palermo, fiori in tutto il mondo. Puoi gustare qualcosa di tipico palermitano? Allora vai da Mimmo Grattatella, lo trovi al Foritalico, zona via Lincoln, Palermo. Mimmo Grattatella vi farà arricchire il vostro palato con la sua grattatella e non solo. Da Mimmo troverete tutto il beveraggio che volete gustare. Lecca-lecca, patatine, cembingo, caramelle di tutti i tipi e tante altre cose buone da gustare. Quindi vai da Mimmo Grattatella e farà felice ai vostri figli e anche a voi. Veniteci a trovare, non ve ne pentirete. La casa ta mereu-mi zice papa In soaran, muiere, non mai lasa o caima ta Grazie a tutti 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 e tutti Grazie a 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 tutti Ogni Grazie a tutti 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 Sandro Grazie a tutti 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 Tu Grazie a tutti 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 Gianluca Dardo Vai via Grazie a tutti 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 Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Grazie 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 Grazie a tutti 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 Tutto Grazie a tutti 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 Mamma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti